Musica Salve a tutti i pumpkins e benvenuti in un nuovo video Mi vedete in questo Modo così strano Perché sono andata a fare Questo colore di capelli che volevo fare da un sacchissimo Di tempo, sacchissimo si può dire E finalmente ci sono riuscita E io li amo anche perché Cambiano colore a seconda della luce Perché adesso forse li vedete violetto Però fuori con il sole Che mi picchia sulla faccia sono in realtà Rosa, vabbè è un colore un po' strano Quest'oggi voglio parlarvi di Fireboard la caccia Di Claudia Gray Questo libro, io e lettori anonimi L'abbiamo letto tutti quanti in questo periodo Perché come sapete Il 17 ottobre Che sarebbe sabato Alle ore 16 ci sarà la live Book talk su questo libro qui E quindi sclereremo come dei folli Su questo libro, quindi se non l'avete ancora letto In realtà voi avete ancora Pochi giorni per farlo Questo libro è edito Dalla Harley Quinn Mondadori E costa 16 euro È un distopico Infatti parla della vita di Margaret Che viene praticamente stravolta Sconvolta Dall'omicidio del padre I genitori sono degli importanti scienziati Che lavorano su questo Ciondolo chiamato Fireboard Che in realtà è in grado di Spostare una persona Nei vari multiversi Quindi nei vari universi che si vengono a creare All'inizio ci viene presentato Come diciamo Colpevole di questo Di questa morte Insomma Un ragazzo di nome Paul Che è diciamo Un amico di famiglia E lei ovviamente In cerca di vendetta Vuole andare a trovare Paul Che è scappato in uno dei multiversi possibili Grazie all'aiuto di Theo Che è un altro ragazzo Sempre amico di questi genitori Quindi grazie a lui Prenderanno questi due Fireboard E andranno anche loro Alla ricerca di Paul Quindi ci spostiamo In realtà in questo libro In vari scenari Che sono veramente bellissimi Perché ci spostiamo Da una Londra Super tecnologica Che è la prima parte del libro Che in realtà Non mi ha fatto impazzire Però ne parleremo meglio Poi nella live Fino a passare Per esempio A una Russia azzarista A un Diciamo A un presente Ma Tra virgolette Quasi molto diverso Dal presente Della nostra Marguerite Questo saltano Negli universi Nelle possibilità Che Ragazzi E' una cosa fighissima Sinceramente A me è piaciuto un sacco Infatti questo libro Ha avuto 4 stelle su 5 su Goodreads Perché Mi è piaciuta l'idea Mi sono piaciuti i personaggi Meg E' una tipa Abbastanza tosta L'ho rivalutata molto Nella Russia azzarista Diciamo Non si è preso Quella stellina in più Per il semplice motivo Che in realtà L'inizio è un po' lento E vabbè Io che ho letto Purtroppo Multiversum Mi ha ricordato All'inizio molto Multiversum Ma è normale Perché più o meno Stiamo parlando Della stessa cosa Una delle altre Pecche Che poi Sempre andremo a parlare Meglio E' che in realtà E' abbastanza prevedibile Cioè Io diciamo All'inizio del libro Ho più o meno Già capito Come poteva andare a finire E che cosa Sarebbe successo dopo Alcune cose Devo essere sincera Non me le aspettavo Sono state tipo Una specie di colpo Così io Cosa Per certi versi Mi ha anche sorpresa I protagonisti Come vi ho detto prima Sono caratterizzati Abbastanza bene Meg ve l'ho detto Mi è piaciuta un sacco Per quanto riguarda Paul Io Amo Paul E Sono sicura Che anche voi Lo amerete Come lo amo io Perché Soprattutto Vi ripeto La Russia azzarista Di questo libro E' bellissima Cioè La parte più bella Del libro E quindi Lì tutti i personaggi Sono dieci volte più belli E quindi Praticamente Paul L'ho apprezzato Tantissimo Theo Mi è piaciuto Così e così Perché Non ha questo gran carattere Che tu dici Oh mio dio Però Più o meno Mi è piaciuto anche lui Per quanto riguarda invece L'ambientazione Io ve lo ripeto Bellissima Per esempio La Londra tecnologica Ha tutto un suo fascino Comunque Sì ve lo ripeto La Russia azzarista E' tipo La cosa più bella del mondo Perché io poi sono fissata Con la Russia Con gli zar Eccetera eccetera Poi la La dinastia dei Romanov Quindi Cioè E' stato tipo Un colpo al cuore Quando ho letto questa cosa Ho detto E' bellissimo E' bellissimo Poi lei E lei è bellissima E non mi posso dire Nient'altro Perché altrimenti Faccio spoiler Questa stile di scrittura Claudia Gray scrive abbastanza bene E' scorrevole E' molto molto scorrevole L'inizio ve l'ho detto E' un po' Lento Però Una volta arrivati Più o meno A metà libro Comunque dopo Londra Dopo questa Prima tappa In realtà E' Una discesa Perché io Non ho più Smesso di leggere Da Da quel punto in poi Da dove ho detto Quindi Quindi ragazzi Questo libro Davvero ve lo Straconsiglio Sono anche contenta Che più o meno Hanno mantenuto La copertina originale Più o meno Non l'hanno stravolta Completamente Poi comunque E' pieno di sentimenti Di feels Che verranno distrutti E Soprattutto Quelli Io non posso fare altro Che dirvi Leggetelo Spero che il 17 Davvero ci sarete Perché Io sono super emozionata Per questa cosa Perché io adesso Vi ho parlato A linee Davvero Grandi linee generali Mi sono anche un po' trattenuta Che il 17 Io Tipo Butterò fuori Tutto quello che ho dentro Riguardo a questo libro Cose belle Cose brutte Io spero che Questa recensione Vi sia piaciuta Giusto un'informazione Piccolina Ho finalmente Aperto il mio account Twitter Perché Posso stalkerare Così tutti Tutti gli iscrittori Quindi mi potete trovare Anche su Twitter Con il nome di Fairy with outfit Ovviamente Come sempre vi ricordo Di iscrivervi al canale Qui sotto Di lasciarmi un pollice in su Se il video vi è piaciuto E commentate Fatemi sapere Se voi in realtà Avete letto Firebird Se Non l'avete ancora fatto Perché dovete farlo E fatemi sapere Se vi è piaciuto Soprattutto Oppure Se non vi è piaciuto E perché Noi ci vediamo La prossima volta Con un nuovo video Vi mando un bacio Ciao Ciao Ciao